A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati al webinar con IG, dedicato al trading con la Price Action, stile IR Forex. Come ogni mese andiamo a portare qui in webinar alcuni argomenti molto importanti, alcuni topic molto importanti che considero rilevanti per una buona attività di trading. E quest'oggi credo che andremo a toccare un tasto che magari non tutti conoscono perfettamente, magari che devono approfondire, e che è la creazione di un piano di trading. Quindi anche se qui adesso vedete i miei grafici, in realtà tra un po' potremo aprire un file vuoto, tavola bianca, come si dice, lavagna bianca, e andremo a capire come creare questo piano di trading. Allora, prima di iniziare volevo salutare tutte le persone, che sono anche parecchie, e che sono qui. Mi scuso per il lievissimo ritardo all'appuntamento, ma c'erano dei problemi con GoToWebinar, avevamo avuto dei problemi per aprirlo, ma adesso è tutto ok. Vedo che Vincenzo mi dice anche che audio e video sono ok. Salutiamo tutti i presenti, vedo anche molte persone che conosco, quindi un salutone a tutti. Molti sono anche Platinum, eccoci qua. Grazie, buonasera a tutti. Bene, bene, bene. Allora, spero stiate bene. Bene, oggi grande argomento, argomento anche poco trattato, se vogliamo, no? In generale dai vari trader. Io sapete che spesso tratto anche argomenti che non sono solamente dedicati al profilo puramente tecnico, quindi puramente dedicato al grafico, ma anche molti aspetti che servono poi per far sì che questa attività, che è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, possa diventare un'attività profittevole, costante. Quindi la creazione di un piano di trading partendo da zero. Allora, io vi faccio vedere questo, che è il piano di trading che c'è sul Platinum, cioè sul nostro servizio, insomma, operativo, didattico. Airforex 2023, piano di trading, che ovviamente trovate all'interno del Platinum, e che da qui voglio partire non tanto perché vi voglio far vedere il mio, ma dopo ve lo faccio anche vedere e lo commentiamo, ma prima vorrei poi partire da qui perché anch'io, che è da tantissimi anni, ormai possiamo dire che sono in questo ambiente e ho quindi una certa ormai esperienza, una certa familiarità dei mercati, ho ormai una metodologia, come dire, ben rodata. Comunque ogni anno, seppur praticamente rimane più o meno lo stesso, vado a rivedere il mio piano di trading e vado a capire se ci sono dei dettagli, delle sfumature da sistemare e soprattutto ce l'ho. Quindi non è che siccome faccio trading da tanti anni non ho un piano di trading, ma ce l'ho. Quindi consiglio prima di tutto a tutte le persone che vogliono fare trading in modo serio e profittevole, di una volta che si sono acquisite le giuste competenze per fare trading, perché questo ovviamente è necessario in qualsiasi attività, e questi webinar che facciamo anche di mese in mese aiutano a migliorare, ad acquisire alcune competenze, possiamo poi passare al lato pratico, ma per passare al lato pratico abbiamo bisogno per forza di un piano da rispettare. Quindi quando si parla nel trading di disciplina, di rispetto delle regole, quali regole del nostro piano di trading? Va bene? Io sono partito in quarta, perché questi cinque minuti di ritardo poi così almeno non ce li mangiamo. Quali regole? Allora bisogna sempre partire da che tipo di trader vogliamo essere, che tipo di investitore di brevi termine vogliamo diventare, e quindi partendo da questa domanda possiamo andare prima di tutto nel piano di trading, che io adesso con voi compilerò per farvi capire come si può creare, proprio partendo da zero, da una lavagna bianca, come abbiamo visto da un foglio bianco, come si può andare a farlo. Allora andiamo a vedere, facciamolo qui insieme, piano di trading, intanto abbiamo la nostra oretta per farlo con calma, eccolo qua, piano di trading. Ovviamente io qui porterò degli esempi generali, ma anche poi scriverò, diciamo, delle cose che sono più in linea con quello che potrebbe essere il mio piano di trading, che non è per forza quello di un'altra persona. La cosa però che voglio, come dire, sia, anche da sottolineare, che sia assolutamente importante, è che non si fa trading senza un piano di trading. Questo è molto molto importante. Quindi nel piano di trading appunto, la prima cosa che si va a, o la prima, insomma, tra le prime cose che si vanno a scrivere, è i mercati che un trader conosce e vuole utilizzare. Se io sono un trader che vuole operare esclusivamente su un mercato, mi viene in mente sulle valute, per esempio, euro-dollaro, uno dei cambi principali, o se voglio tradare sull'ambiente degli aggregati azionari, lo standard PUR 500, un altro mercato importantissimo delle azioni, oppure l'oro, no? Il gold è un altro mercato assolutamente importante per appunto i trader. Sono tre mercati, ho citato, diversi, ma importanti, diversi come asset class, ma importanti allo stesso modo. Allora decido magari nel mio piano di trading di inserire, non so, due mercati, euro-dollaro e standard PUR, per esempio, no? Cioè, sono un trader che utilizza solo uno o due mercati al massimo, diventerò esperto di quei mercati in maniera assoluta, e quindi poi ne andrà da sé che anche nella parte del piano di trading, dei time frame utilizzati, utilizzabili, del rischio preso, di tutta una serie di argomentazioni, anche della fascia temporale con la quale si può lavorare, ci saranno ovviamente dei risvolti diversi, perché è normale. Quindi io adesso qui ovviamente vado ad affrontare, ripeto, il mio piano di trading per come sono io, no? Poi ognuno dovrà farlo suo, dovrà farlo proprio per scrivere quello che in realtà vuole fare. Però diciamo che in questa serata andrò a inserire dei buoni esempi di come io vado a fare questo piano. Quindi se io vado a inserire i mercati principali su cui voglio operare e quindi quelli su cui cercherò di concentrarmi durante l'anno e quindi non dovrò distrarmi troppo con altri, ecco perché a cosa serve questo piano di trading e cosa serve rispettarlo, la prima cosa che si va a mettere è la lista mercati, no? Lista mercati. Lista mercati. Lista mercati dove si può andare nel specifico, io per esempio posso andare a mettere, non so, le coppie di valute che utilizzo, quindi andrò a mettere sterlina, euro, andrò a mettere Australia, yen, Canada, scusate, ecco qua, poi andrò a mettere sempre, per quanto riguarda il mio, la mia lista, i mercati americani principali a livello borsistico, quindi S&P Nasdaq, quelli americani, quelli europei, io vado a vedere il DAX, e il nostro MIB, poi gold e oil VTI, l'olio americano, basta, poi posso andare a inserire, anzi aspettate, come posso andare a inserire azioni con la price action, più interessante, in linea con gli indici di riferimento, che sarebbero quelli della mia watch list, cioè cosa significa? Significa che, io nel mio piano, la prima cosa, inserisco i mercati che andrò a utilizzare, lavorando, e questo sarà il secondo punto, cioè il time frame, lavorando io, principalmente, con la price action, e quindi la price action, non è fatta sotto certi time frame, chi vi parla di price action sotto certi time frame, non ha capito niente della price action, ok? La price action, come metodologia, se uno parla di price action, come azione dei prezzi, come terminologia inglese, per dire azione dei prezzi, è un conto, ma se parliamo di price action, come metodologie, si parla di time frame, più bassi di un quattro ore, stiamo già vaneggiando, quindi attenzione, e ve lo dice uno, che la price action la fa da quando è nato, e quindi potete ben capire. Quindi, price action, time frame grandi, weekly e daily, con delle, anche delle osservazioni su quattro ore, che adesso inseriremo, ma non sotto di quelli. Quindi cosa significa? Significa che io, lavorando su questi tipi di time frame, andrò ad avere, per forza di cose, non un solo mercato o due, da lavorare, neanche cento, però qualcosa in più, quindi una decina, come potete vedere qui, no? Quindi cinque coppie di valute, quattro indici, oro e petrolio, sono circa una decina, se non sbaglio sono undici, se non conto male, mercati. E poi, come io faccio sempre, inserisco qualche azione, che però è all'interno, di questi, quindi, Germania, Mib, e S&P e Nasdaq, più o meno, e quindi so esattamente, come si stanno muovendo, i panieri, di una determinata, che raccolgono, una determinata azione, per esempio, io sono molto focalizzato, sul Mib 40, a me piacciono, gli titoli italiani, perché li conosco meglio, perché sono italiano, perché spesso, molte aziende, le vediamo, girando per le strade, le nostre città, o per i vari, in autostrada, vediamo, cappannoni, di questa, di quell'altra, quindi Mib 40, sicuramente, con le azioni italiane, è per me, ecco, un punto di riferimento, però, come vedete, mantengo una linea, che non va a prendere, qualsiasi cosa, durante la settimana, forma, una situazione interessante, a livello, per esempio, di price action, io faccio la price action, o qualsiasi altra cosa, perché andrei un po' a distogliere il mio focus, quindi, il fatto di farsi, un piano di trading, che abbia una lista mercati, ovviamente, va in, è direttamente proporzionale, al tipo di trader, che vogliamo essere, io, che faccio un trading, su daily e weekly, ho bisogno, di non troppi mercati, neanche però, di averne solo uno, perché sennò, diventerebbe poi difficile, trovare, il proprio, il numero di opportunità, che ci permetta, poi, a fine mese, a fine anno, di creare dei numeri, di un certo tipo, ma neanche troppi, perché altrimenti, troppi, ci tolgono focus, ci tolgono quindi, qualità, ci tolgono un sacco, di caratteristiche importanti, per il nostro trading, quindi, prima di tutto, lista mercati, che vuol dire, ripeto, che non mi vado, a tradare, il, non lo so, il, lo, London Sugar, o, Franco Yen, non avete capito, no, potrei andare, a lavorare, direttamente, dei cross, che sono all'interno, di queste valute, per esempio, se conosco bene, il movimento di Euro-Dollaro, conosco bene, il movimento di Dollar-Yen, potrei, se sono già avanzato, se conosco bene, il mio mestiere, se sono, ormai esperto, anche a volte, trovare degli spunti, già solo guardando, Euro-Dollaro e Dollar-Yen, e quindi, andare magari, su Euro-Yen, che è il cross, figlio, dei due cambi, col dollaro americano, che, mi dà degli spunti, potrei farlo, lo faccio, non molto frequentemente, lo faccio più raramente, e capita, però, ecco, il mio focus, deve essere, principalmente, su questi, ok? questi qui, sono quelli del focus, quelli sottolineati, con la, con la sottolineatura, va bene? Antonio dice, azioni in linea, con settore indice, e dopo, qui, ecco, Antonio ha tirato fuori, un argomento, che è, più riferito, anche al tipo di metodologia, no? che poi uno va, a lavorare, perché se uno, magari, è più concentrato, su azioni, su alcune azioni, allora, a quel punto, può andare a vedere, sia, il settore, di riferimento, sia, magari, i competitor principali, di quell'azione, e l'indice, poi, che ne fa riferimento, quindi, poi si possono fare, però, quello va più nella metodologia, qui è proprio, un piano di tre, un po' più generale, da seguire, in maniera, molto, molto, disciplinata, perché, se noi abbiamo, delle regole, vedrete, che già, si faranno, meno, errori, si faranno, meno, si lavorerà, meno, di istinto, meno, di, come dire, di emozioni, e più, in maniera, pianificata, e razionale, cosa, molto importante, in borsa, ok, qui si parla, ovviamente, di questo, altro punto, che andiamo a inserire, nel nostro piano di trading, e che è importantissimo, anche qui, è i time frames, io, ovviamente, devo sempre pensare, a che tipo di trader, voglio, a che tipo di trader, voglio diventare, o voglio essere, perché, se io sono, un tipo di trader, che, non vuole, tenere, le operazioni, oltre, più giorni, quindi, in overnight, non vuole andare, alla notte, voglio tenere, solo operazioni, di brevissimo termine, nella giornata, allora, dovrò fare una scelta, comunque, anche lì, se dovrò fare questa scelta, non posso, andare, a prendere, tutti i time frames del mondo, andando alla ricerca, spasmodica, di un, dei segnali, di trading, perché, devo per forza, tradare, poi ognuno, io, facendo un trading, come vi dicevo prima, più rilassato, più pianificato, io, ogni operazione, sapete, me la scrivo, e vi consiglio di farlo, sul mio piano di trading, sul mio diario di trading, vado a fare, tutte le mie analisi, eccetera, quindi, io faccio un'operatività, che è un'operatività di trading, ma non è un'operatività di trading, intraday, è capitato, che ho aperto un'operazione, la mattina, e si è chiusa la sera, voglio dire, non è che, però, il mio, fare trading, è, cercare, un trigger, che spesso, dura qualche giorno, a volte qualche settimana, quindi, è un trading, quello che io chiamo, trading di breve termine, swing trading, quindi, time frame, qui, più efficace, importanti, quali sono, il weekly, che ci permette, di vedere, la big picture, quindi, ci permette, di capire, qual è, la struttura, del mercato, poi, c'è, il grafico daily, assolutamente, importante, come, conferma operativa, di dinamiche, che già, avevamo notato, su weekly, e che può essere, di aiuto, per entrare, nel modo giusto, sul mercato, e poi, ci aggiungerei, un 4H, solo, ed esclusivamente, se, il, se c'è, una situazione interessante, ovviamente, su weekly e daily, e, per avere, per esempio, delle conferme in più, qualora il daily, magari, non ci, ancora, non ci conferma, qualcosa, o, magari, vogliamo avere, la situazione, ancora più chiara, può essere utilizzato, e quindi, vedete, che io, principalmente, qui metto, ovviamente, i primi due, sottolineati, perché sono, i due più importanti, non ho, cioè, io non ho, la possibilità, di, durante il giorno, di andare sul grafico, a 15 minuti, a 5 minuti, a un'ora, a 30 minuti, a quello che volete, no, perché non è nel mio piano, quindi, andrei a, non rispettare, la mia, regola, non andrei a rispettare, la mia, il mio piano, e andrei a fare, quindi, qualcosa, che potrebbe generare, delle situazioni, che non mi portano, dritto all'obiettivo, che è quello, di essere costante, profitevole, nel trading, ma, mi porterebbero, nella situazione, di magari, fare, delle, delle cose, che, mi svantaggiano, e mi portano, lontano, dal mio obiettivo, di continuare, a fare, il mio profitto, mensile, con calma, no, cercando di trovare, le giuste opportunità, va bene? quindi, ovviamente, questo, è il mio piano, poi, ognuno, in base a quello, che è, fa il suo, io, qui non voglio, no, questa non è, questo è il mio, piano, la mia, no, la mia cosa, ognuno, però, deve farselo, in base a quello, e, questo è una, un consiglio, che vi do, ecco, anche su time frame, non più di tre, già tre, tanto, vedete che io ne ho sottolineati due, io, solitamente, potete, vedermi in tutte le live che faccio, e, potete chiederlo ai platinati, io, in quattro ore, lo guardo praticamente, quasi mai, io faccio weekly, e daily, weekly, daily, quindi ho due time frame, uno, che è quello weekly, su cui, vado a lavorare, e guardare la struttura, e il daily, che è il mio operativo, quattro ore, è una cosa in più, che ci può essere, in certi momenti, avete capito? Quindi, pochi, non troppa roba, è un po' come con gli strumenti, più roba abbiamo, più potremmo, incasinarci, e fare confusione, perdiamo focus, quindi, less is more, come diciamo sempre, il meno è più, pochi strumenti, pochi time frame, e disciplinatamente, seguiremo quelli, poi, un'altra cosa importante, che io, inserisco sempre, sul mio piano di trading, è il rischio, ovviamente, qui dovrò, e adesso, qui per forza di cosa, non è che vado a scrivere, a livello, dopo, io vi faccio vedere, anche il mio piano, per quest'anno, e comunque, ma non serve neanche, perché lo sto facendo, praticamente simile, simile a voi, simile a voi, scusate, simile a quello che ho, quindi non serve neanche, che vi faccio vedere, molto simile, sul rischio, ovviamente, si deve andare, a lavorare, osservando, non solo, quanti soldi, ho a disposizione, perché io, potrei essere un trader, che ha tanti soldi, a disposizione, ma poche conoscenze, poca competenza, poca esperienza, poca capacità, di gestire le mie emozioni, cioè, poco di tutto, però ho tanti soldi, allora io potrei anche mettere, sul piatto, un milione di euro, ma non avere le competenze, per poterli gestire, e quindi se io dico, rischiamo il 2% di un milione di euro, cosa sono? 20.000 euro? 20.000 euro, quindi, sono un po' troppi, no? Per uno che non ha competenze, esperienza, eccetera, stessa cosa vale, anche se io, ho meno soldi, diciamo che, in linea di massima, a me piace dare degli spunti, a livello percentuale, perché a livello percentuale, sicuramente rispetto al capitale, stando bassi, adesso vi dico anche quali sono gli spunti, sicuramente si riesce a tenere, a livello così generale, voi riuscite a capire un po', in base ai soldi che avete, quanto è il massimo rischio potenziale, ma in realtà è molto importante, fare una analisi, della propria esperienza, della propria competenza, e di quanto siamo disposti a perdere, a pagare al mercato, perché qualche trade ci costerà, nel momento in cui, questo non vale la direzione, che noi abbiamo deciso, che abbiamo pianificato, succederà, no? È normale, fa parte dell'attività di trading, sono i costi, no? dell'attività, e quindi, e tante volte, tra parentesi, voi tutti cercate comunque, la formula magica, che non esiste, chiudo la parentesi, quindi sapendo già, quindi essendo consapevoli, che nel trading, ci sarà qualche operazione, che dovremo chiudere, un po' in perdita, un po' a costo, dobbiamo trovare, un costo massimo, che noi siamo disposti, a dare al mercato, e anche questo costo, dovremo magari, moltiplicarlo per 5, per 6, perché nel caso in cui, ci siano più operazioni consecutive, che non vanno alla parte giusta, noi dobbiamo comunque, essere ancora vivi, dopo 5, 6, 7 trade, che possono andare bene, ok? Quindi, torniamo a bomba, qui sul rischio, qual è la percentuale, che mediamente, io vedo, può non essere pesante, per un trader? Allora, la percentuale, le percentuali, che mediamente, non sono, no, pesanti per un trader, vanno dallo 0,5% del proprio capitale, fino a un massimo di un 3%, c'è anche chi va fino a un massimo di un 5%, però, io rimarrei, abbastanza, no, abbastanza tranquillo, questo però, adesso devo farvi una, una piccola, come dire, qui devo inserirci, una postilla, diciamo, perché 0,5% vuol dire, che su un trade, se io ho, non lo so, mettiamo, 100.000 euro, no, per far trading, 500 euro, sono, il 0,5%, il 3% sono 3.000, quindi, se io, vado a rischiare, un trade, 500 euro, e l'altro 3.000, e l'altro 1.000, e l'altro 3.000, e l'altro 500, e faccio così, diciamo, che non è proprio, ottimale, devo capire, tra questa soglia, qual è la soglia, mia, dove, anche a livello, intimo, a livello di, patrimonio, psicologico, riesco a gestirla, riesco a essere, comunque, tranquillo, nella mia gestione, e da lì scelgo, e poi, per un tot di tempo, fino a quando, non avrò realizzato, x, migliaia di euro, in base, ovviamente, al capitale di partenza, non cambierò, la mia cifra di euro, faccio un esempio, pratico, ho un conto, da, quanto facciamo, un conto più, normale, facciamo un conto, da 10.000 euro, che è un conto, mediamente, che, voi molti avete, e si riesce, insomma, non è, né grande, né troppo piccolo, è un medio piccolo, conto, che può essere buono, per far trading, almeno inizialmente, no? Quindi, cosa facciamo? se decidiamo di rischiare, il 2%, 200 euro, perché 200 euro, di questi 10.000, almeno inizialmente, per il primo anno, magari, o per i primi sei mesi, dopo dipende anche, quanto, quanto riusciamo a fare, ci sentiamo tranquilli, allora, metteremo questi 200, su ogni trading, quindi non ricalcoleremo, il 2% ogni volta, che magari, la nostra equi di sale, o scende, cercheremo di darci, non so, una soglia, di circa 2.000 euro, che è il 10% totale, nel senso, se la mia equity, da 10.000, diventa, il mio conto, da 10.000, diventa 12.000, allora, quei 12.000, potrei iniziare a dire, beh, quel 2% che usavo, adesso, su 12.000, quanto sarebbe? Sarebbe 240, quindi, cifra tonda, 250, potrei iniziare, ad alzare, di 50 euro, la mia soglia, e il mio rischio, va a 250. Andiamo a 15.000? Bene, a 15.000, quanto è il 2%, quindi continuiamo a 250, 250, anche se sale il conto, quando sono a 15.000, posso dire, beh, adesso, dopo, dopo che ho fatto questo, no, questo, magari dopo un anno e mezzo, sono arrivato a 15.000, trattando tranquillo, senza fare cavolate, bene, questi 15.000, quanto è il 2%? Sono 300, beh, me lo posso, me lo sento, nelle mie corde, ce l'ho, non solo per il conto che ho, bene, 300, e metto, e quindi, nel giro di qualche anno, poi, soprattutto per chi è all'inizio, uno, si costruisce anche un piccolo patrimonio, o piccolo grande patrimonio, un po' alla volta, e due, si riesce a sviluppare una gestione del rischio, gestione della perdita esperta, che ci consapevolizza meglio in quello che facciamo, e ci permette, in effetti, di gestire le nostre emozioni, quindi le nostre operazioni, in maniera molto più efficace, poi, è fine del risultato. Allora, qui, Stefano dice, per esempio, parole sante sul rischio, personalmente, ho adottato l'1,5%, quindi, l'ha fissato inizio anno, e adesso sta tenendo quella cifra, non mi disturba emotivamente, se vado in loss, direi ottimale, per un principiante come me, assolutamente, guardate che, se noi guardiamo, anche, è diverso, non è la stessa cosa fare trading per un hedge fund, che farlo trading per un trader come noi, piccolo, diciamo, no? però, dobbiamo un po' prendere spunto, un fondo importante, no? questi grossi, come dire, investitori, no? che gestiscono importanti somme, non è che vanno a rischiare su un trade troppo, quindi, impariamo, no? su certe cose, impariamo da questi, perché? perché sanno anche loro, che anche se sono molto bravi, conoscono molte cose, riescono spesso a essere dalla parte giusta, però, non sempre anche loro sono dalla parte giusta, e quindi bisogna accettare, quando il mercato va dalla parte sbagliata, è un po' come, no? noi siamo commercianti, siamo dei trader, e, ogni tanto, compriamo della merce, magari, l'abbiamo comprata a 100, e non riusciamo a venderla tutta a 100, quindi ci rimane il magazzino, e allora dobbiamo magari fare qualche scontistica, qualcuna dobbiamo regalarla, dobbiamo cercare di trovare il modo per far sì che la merce esca, di uscire con la minor perdita totale possibile, e quindi di gestire il rischio anche lì, e nella stessa cosa per noi facciamo trading in maniera imprenditoriale, La cosa che voglio però soffermarmi è questa, prendiamo un rischio, inizio anno, e da lì poi, in base ovviamente alla liquidità, iniziale, perché poi adesso vi ho fatto un esempio, che potrebbe essere per molti, però, bisogna vedere un attimo lì, e un po' alla volta si cambia, ma non subito, non è che a ogni trade cambio a livello percentuale, questa è una cosa che vi consiglio di non fare, quindi, rischio fisso, fino a un certo tot, si è guadagnato un tot, si può iniziare ad alzare un po' la posta, mh? Poi, io nel mio, nel mio piano, ho un rischio massimo per il primo trade, per un secondo terzo, per un totale, però, vabbè, è un qualcosa di più personale, quindi, a quel punto, avrebbe anche poco senso adesso, eh, mostrarvelo, però, il rischio, insomma, 0,5-3%, può essere buono, quindi, qui, eh, si fissa, un rischio, monetario, inizialmente, e si mantiene, fino a una determinata cifra, per poi, rimodificarlo, come ho, vi ho fatto l'esempio, rischio, ok? Questo è un po', il, la questione del rischio. Poi, nella, sempre nel piano operativo, credo sia corretto, andare anche a inserire, che tipo di gestione, diciamo, quindi gestione operativa, si va a fare, no? Eccola qua, gestione operativa, cioè, cosa vuol dire? Io devo anche qui, avere chiaro, no? Ovviamente, poi, ci sono le sfumature del mercato, e quindi, va ovviamente visto, di giorno in giorno, ma, la cosa importante, è, per esempio, io, vado a, eh, tradare, esclusivamente, eh, solo i mercati, che hanno avuto, un'chiara informazione, dove? Su weekly. questa è una prima cosa che io faccio sempre, informazione, informazione, va bene, che fa già parte della struttura, ok? poi, altra cosa, eh, prima di, vedete, regole operative, prima di tradare il weekly, scusate, prima di tradare il daily, prima di tradare, virgola, il daily, deve, aver mostrato, i dettagli, che confermano, il weekly, no? Che non vuol dire per forza, che ci deve essere la conferma sul daily, potrebbe essere già una conferma, quello che ha fatto il weekly, perché il daily è già ben impostato, per esempio, cioè il daily deve comunque essere, in linea, con il weekly, cioè, se io ho, un weekly, di un certo tipo, ma il daily non è ancora pronto, non faccio nulla, devo avere una conferma daily, se io ho un weekly messo bene, e il daily è messo bene, lì allora, ho questa cosa qua, quindi prima di tradare, il daily deve aver mostrato i dettagli, che confermano il weekly, la struttura weekly, se vogliamo, così capite meglio, no? Di prezzo weekly. Poi ancora, i target, tono su livelli chiave, più confluenze magari, confluenze di estensioni di volatilità, questo è sempre il mio di piano, quindi vado a capire che cosa, vado a scrivermi, a confermarmi che durante la vita dei trade, non potrò stare aperto, all'infinito, dovrò trovare dei punti di uscita, i punti migliori di uscita, saranno su livelli chiave grafici, che confluiscono, con i livelli di estensione, di volatilità, del pattern, del nostro modo, della gamba, poi qualcuno mi fa, mi fa uno spunto, non bisogna tradare contro la tendenza weekly, insomma, ecco, diciamo che non è tanto contro la tendenza, Vincenzo, quando io parlo di struttura, allora guarda, vi faccio vedere qui, e copio, faccio un copio e incolla, di quello che è il mio piano, il weekly qua, parla di questo, eccolo qua, weekly, struttura, scusate, devo fare così, eccolo là, struttura, trend, livelli, fibo, vola, swing, dinamiche di PA, trigger, la cosa più importante sono, trend, livelli, trend e livelli, questo è importantissimo, poi ovviamente, c'è del fibo, c'è della vola lì, lo swing, è tutto importante qua, ok? Quindi, non è solo Vincenzo, cioè io posso anche tradare contro la tendenza weekly, ma sono magari nella struttura weekly, qua ci sarebbe, cioè, come posso dirti, potrebbe esserci una situazione, interessante su un mercato che è long, ma interessante da un punto di vista short, perché magari sul weekly si è formato, mi viene in mente, no? Se io prendo, se io prendo qua, questo è un livellone, qua c'era andato il prezzo, poi c'è ritornato, poi magari questo è in long, in long, in long, in long e sul weekly mi fa questa, io qui cercherò short, sul daily e sulle mie, ok? Quindi la struttura, la struttura, poi questo non è, io non volevo fare il piano di trading mio, volevo darvi degli spunti, no? Di cosa dovete inserire in un piano di trading partendo da zero, quindi in questo caso ritorniamo sulla gestione operativa, andare a prendere profitto è importante, ve lo dico sapete perché? Perché tante volte, magari su posizioni su cui magari stiamo anche guadagnando, ho visto molti trader, molti di voi, che sono un po' avidi, e dicono, no, ma tanto può arrivare là, può arrivare là, può arrivare là, poi non prendono più profitto, il mercato gira, e gli torna indietro, addirittura, o chiudono a zero, o addirittura chiudono in perdita. Quindi, cerchiamo di inserirci nel nostro piano anche dove prendere profitto, no? Dove prendere profitto, è importante che, per esempio, una delle confluenze importanti di estensioni che noi utilizziamo è il 261,8, quindi confluenze 161,8 prima e 261,8 seconda sono due livelli importanti di confluenza, per esempio, no? Un'altra cosa importante, è che io mi sono scritto nel mio piano, è questa, che vi copio e incollo, è questa, anche se è scritto un po' male, con un altro, è lo stesso, eccolo qua, gestione trade anche con arduinacci, che è il mio modo di gestire i trade con, diciamo, il movimento del 50% della vola del mio swing, cioè, principalmente vuol dire questo, non lasciare che un trade con un profit consolidato possa diventare una perdita, anche qui io ci ho lavorato molto su questa cosa, mi è successo, negli ultimi 6-7 anni, e ancora di più negli ultimi 3-4, devo dire che ho migliorato molto questa mia dote, è molto importante, non abbiamo quel super ego, dobbiamo toglierci quel super ego, perché abbiamo guadagnato 300, ma avevamo comunque l'obiettivo a 600, e questo torna indietro, si chiude, o comunque si va a zero, piuttosto, ma non si va a imperdita, ok, se il trigger daily, poi, ha una struttura che non convince, come ho scritto nel mio piano, quindi, se il daily, non è convincente, si aspetta, conferma a 4H, questo, ok, quindi, mi faccio quelle 3-4-5-6, in questo caso, no, 5, informazioni, regole, da rispettare, durante l'anno, anche nella gestione operativa, quindi, tradare solo i mercati, che hanno avuto informazioni su weekly, prima di tradare il daily, dobbiamo vedere, che abbia gli stessi, diciamo, dettagli, o comunque, conferma un po' la nostra analisi weekly, i target, con confluenza di estensione, soprattutto queste due, sono punti importanti, su cui prendere, profitto, o gestire la posizione, gestiamo il trade, in modo che i profitti consolidati, vuol dire che è da 2-3 giorni, che il mercato è in profit, che la nostra posizione in profit, non devono diventare una perdita, mai più, e soprattutto, il daily, che se non è convincente, nella sua conferma, è meglio sempre aspettare, una conferma a 4 ore, o, conferme, su, come si dice, a livello, correlazioni, ok? Correlazioni, anche questo è sicuramente importante, perché può esserci, anzi, per me le correlazioni, sono un indicatore, no? ecco, diciamo che per me, per un buon piano di trading, questi 4 punti, quindi, lista dei mercati da lavorare, per avere più focus, time frame, sempre per avere focus, rischio, già sapendo, quanto deve essere, quanto fare, deve essere un rischio monetario, su cui, una percentuale di questo tipo, potrebbe andare bene, si parte dall'inizio, in principio, si seleziona, e poi non si muove, fino a un certo tolto, e nella gestione operativa, dove ci sono quelle 4, 5 informazioni chiare, che voi dovete rispettare, quando fate trading, poi, nel piano di trading, si possono inserire, anche cose in più, io, nel tempo, ho, molto, anche qui, tolto cose, che non mi servivano, perché vedevo, che poi, durante la vita del trading, di giorno in giorno, non mi servivano più di tanto, non avevano, non aveva senso, andarle a inserire, nel mio piano operativo, in questo caso, eh, ottenuto, quelle cose, che, continuo ad avere, continuo a scrivermi, continuo ogni tanto, a rileggermi, a rivedere, per mantenermi, nella retta via, diciamo, per mantenermi, in questo modo, allora, andiamo a vedere un po', poi, di vostre domande, Roberto disse, potresti spiegare meglio, l'ultimo punto, livelli chiave, ed estensione di prezzo, sì, perché io, quando faccio trading, adesso, è sempre una mia cosa, questa qua, ma se io faccio trading, no, e, per esempio, vado a fare trading, su questo qui, che è un mio trigger, che c'è anche qui, facciamo questa, no, che è un FTV, l'avevo anche tradato, poi tra l'altro, l'euro-dollaro qui, quindi, andiamo a vedere, ho un livello chiave, che porta in area, 1,1050, che è una zona chiave, molto importante, di prezzo, eccola qua, questa è una zona di offerta, molto importante, zona sell, 10,50, e, mi vado a inserire, questo, qui, poi, mi inserisco, anche, sull'altro trigger, che è questo, qui, e poi, mi inserisco, non so, se vogliamo metterci, anche, la pinbar, questa, qui, e poi, faccio daily, guarda, che roba, che è, aiuto, cosa è successo, qui, ok, cosa succede, qui, che, nell'area, 1, 1050, dove, potrebbe esserci, la mia uscita, ci sono, svariate confluenze, dell'estensione, di volatilità, dei trigger, che utilizzo, boom, 261,8, 211,8, 211,8, questa roba qua, ci sta dicendo, bene, compro qui, poi io, qui avevo, vabbè, questo, qui, può esserci, la chiusura, della posizione, oppure, guardate, 161,8, oppure, su questa barra, di volatilità, va bene, questo sto dicendo, non è il tema, di oggi, questo, era, il tema, era, come crearsi, un piano di trading, però, per così, sono stato chiaro, bene, ho così, risposto anche, ad altri, bene, le, le estensioni, di volatilità, i ritracciamenti, sono tutte cose, che tra l'altro, insomma, noi parliamo, spesso, di queste cose, nei nostri, nei nostri corsi, nelle nostre, nei nostri seminari, anche qui, l'ho usato molto, tra l'altro, ecco, vi faccio vedere, questo è il nostro sito, non so se lo conoscete, molti di voi non lo conoscono, siamo attivi dal 2010, con questo sito, siamo da un po', nel settore, e, oltre all'accademia, che è, assolutamente, un plus, per chi vuole, veramente, affrontare, il trading, a 360 gradi, abbiamo, anche, i servizi, di corsi, staccati, nel bundle, video corsi, price action, per esempio, c'è il corso, che avevamo fatto, qualche anno fa, col mio collega Antonio, dedicato, alle estensioni, di volatilità, ai ritracciamenti, per esempio, ma anche sul corso, price action, nell'accademia, ne parleremo, di questi, di queste estensioni, quindi, insomma, ci saranno i modi, se volete approfondire, ancora di più, sapete, insomma, potete scriverci, potete, senza nessun problema, allora, vedo positivamente, il trailing stop, beh, appunto, si potrebbe utilizzare, ovviamente, in questo modo, con la gestione, con l'arduinacci, io, il trailing stop, sapete che, lo utilizzo, più manualmente, cioè, non è che utilizzo, un trailing stop, automatico, perché, lo ritengo, ma tutto quello, che è automatico, sui mercati, a me non piace moltissimo, ma per carattere mio, a me piace guidare, la macchina, e guidarla io, non farmi guidare, da un robot, ok, o da un sistema, da un algoritmo, che dice, ogni 10 pips, ogni 100 pips, ti muovi, quel trailing, quello stop, no, io, in base al mercato, in base alla volatilità, in base a quello, che mi sta dicendo il mercato, vado a muovere, sì, è possibile, è esposto, posso farlo, non è, dipende, insomma, dipende dalla situazione, Roberto mi dice, fai rischio rendimento, 1 a 2, no, assolutamente no, faccio rischio rendimento, faccio rischi ampi, quindi, prendo stop molto molto ampi, e poi il rendimento, va sul tipo di livello, no, utilizzo, anzi, al contrario, ho una mia, un mio approccio, che non è quello classico, dei libri, ho iniziato, con quello classico, dei libri, poi però, mi sono fatto, il mio di approccio, negli anni, con la mia esperienza, e oggi, ho degli stop, che io chiamo, stop paracadute, che sono stop, molto ampi, su cui poi, gestisco, l'uscita, anche in perdita, molto prima, di quello stop, in realtà, no, quindi vado a lavorare, in maniera molto easy, vi faccio un esempio, ho un trade, su Australia Dollar, in questo momento, AUDUSD, eccolo qua, che è in lieve perdita, in questo momento, e guardate bene, questo è un conto reale, il mio stop, dov'è? questo è lo stop, di circa 500 euro, ce l'ho qua, non so se avete capito, quindi io, uno a due, non lo guardo più, non lo guardo mai, io poi da qui vedo, dove si può andare, a prendere profitto, ma questo è il mio massimo investimento, e vado a lavorare su questo, se la posizione, se il mercato, inizia ad andare un po' contro, sopra certi livelli, in modo razionale, e con calma, cercherò di capire, se è giusto uscire, su quel livello, se è meglio aspettare, una barra in più, se è meglio uscire, sull'aumento di volatilità, e uscirò con una perdita, sicuramente minore, ok? va bene? quindi questo, però, ripeto, oggi, il topic era piano di trading, e spero di avervi dato, un supporto, un aiuto, anche per come compilarvelo, e che cosa inserire, soprattutto, dovete poi essere, in grado di rispettare, quello che voi inserite, va bene? bene, allora, Massimiliano dice, grazie Arduino, ti seguo da mesi, e ormai, non vedo altri modi, di fare trading, bene, mi fa molto piacere, Massimiliano, grazie, mi fa molto piacere, grande, bene, altre domande, da voi, io sapete, sono qui, io amo il mio lavoro, quindi, per me stare anche un quarto d'ora in più, venti minuti in più, per me, non è assolutamente un problema, anzi, volentieri, non c'è, sono qua, nel mio bunker, come dico io, e quindi, se avete bisogno di qualche altra dell'ossidazione, sul piano di trading, su come costruirlo, o comunque, qualsiasi cosa, qualche informazione, volentieri, altrimenti, possiamo chiudere, per oggi, bene, mi sembra, che tutto sia chiaro, io ho finito anche la mia bottiglia d'aria, d'acqua, quindi, molto bene, allora, Antonio dice che sta studiando uno stop loss dinamico, basato sui tuoi livelli di estensione, al contrario, ecco, io uso l'arduinacci su questo, proprio in questo modo, capito Antonio, da tanti anni, quindi, utilizzo l'arduinacci per spostare gli stop, Leonardo dice, capitale di partenza di 5 mila euro, troppo poco per iniziare, no, assolutamente, perché, ma no, ognuno ha il suo di capitale, che può, diciamo, gestire, no, in ottica di investimento, di, su cui può lavorarci, quindi, assolutamente, assolutamente no, 5 mila euro, soprattutto perché all'inizio, attenzione però, eh, per iniziare, cosa vuol dire Leonardo? Perché, è sempre lì, noi, vi faccio vedere una cosa, prima vi ho parlato di accademia, no, abbiamo messo, appunto, questa nuova formula, non è un'accademia solita, non è un corso di trading, un'accademia vuol dire, è un percorso di trading, ve lo faccio vedere, c'è un sacco di roba, potete andare sul sito e vedere, è un percorso di studi, dura 18 mesi, con un fuoricorso che può andare anche fino a 24, cioè, stiamo parlando di un percorso di studi che ha anche delle prove da superare, stiamo parlando di un, cioè, di fare un, quindi, quello che voglio dirvi è, la tua domanda è, per iniziare, no, i 5 mila euro, se sei all'inizio, devi tenerteli in tasca e non fare trading, devi prima acquisire tutte le competenze, capire che cosa vuol dire trading, capire che tipo di trading vuoi essere, che tipo di trading vuoi fare, capire tutte le cose che riguardano il trading, i mercati, e poi provarti in demo, infatti noi facciamo proprio nel percorso di studi, un apprendimento teorico i primi 6 mesi, apprendimento esperienziale in demo dopo i 12 mesi, e solo successivamente, se riteniamo opportuno, diciamo, alla persona che vuole diventare un trader, adesso tu ti puoi andare a mettere anche, non so, i 5 mila euro sul conto, e fare trading, solo così ragazzi, toglieremo, le percentuali, dei trader che perdono soldi sul mercato, se noi appena vediamo che è bello far trading, mettiamo i soldi sul conto, e iniziamo a tradare, senza nessuna incompetenza, o perché abbiamo visto un corso online, o perché quello là, ci ha mostrato delle robe, e cerchiamo di fare come lui, no, non ci siamo, ve lo dico, perdiamo soldi così, ok? Quindi, cerchiamo di fare le cose in maniera sana, noi sapete che, ripeto, siamo sul mercato da tanti anni, siamo sempre stati molto onesti, e io le cose le dico per quelle che sono, non ho nulla da dovervi vendere, ma vi dico, ragazzi, se c'è sacrificio, impegno, il trader lo si può anche diventare, ma non è una questione di un mese, o si fa un corso, e si diventa trader, si mettono 5-10 mila euro, quello che è, mille euro, su un conto, e poi si diventa bravi, no, quelli si perdono, quindi acquisiamo tutte le nostre competenze, e poi, solo poi, capiamo se è giusto andare a fare, un certo tipo di discorso sul trading, ve lo dico per esperienza, anche perché ormai, sono adulto, ho due figlie, ormai grandi, e, ho, ormai, vi dico, i primi trading li ho fatti tra il 2004 e il 2005, 2005, diciamo, quindi provate a pensare, 15, 23, sono 18 anni che sono sui mercati, e di cui gli ultimi 13 con anche yearforex, quindi con questo sito che vedete, di cose ne ho viste, quindi, se ve lo dico, ve lo dico per voi, attenzione, fate molta attenzione, utilizzate il vostro tempo per formarvi, fate i giusti passi, ok? Va bene? Bene, bravo Leonardo, giusto, allora, sì, sì, assolutamente, perfetto, ti ho già risposto, bene, 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 allora ragazzi, io vi, vi ringrazio, perché siete stati molto, molto attivi, anche qui in chat, e siete stati molto, avete fatto delle domande ottime, io, a questo punto, direi che, noi ci possiamo vedere, al prossimo webinar qui, su IG, o comunque, alle live, che faccio anche sul mio canale YouTube, a quelle che faccio, quindi live trading room, a quelle che facciamo con IG, al martedì, sono live, dalle 15.15, alle 15.45, andiamo a vedere, i certificati turbo, vi dico già, che se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube, al canale YouTube di Airforex, domani sera, alle ore 21, ci sarà una super live, con un nostro studente, che è diventato un trader, a tempo pieno, che si chiama Davide, e che ci mostrerà, delle cose interessanti, parleremo con lui, quindi ecco, lui per esempio, è una, assolutamente, la prova, vivente, che facendo le cose, in modo totale, in maniera 360 gradi, con i tempi giusti, si può veramente diventare bravi, e lui è veramente diventato bravo, quindi, domani ore 21, ci possiamo vedere, sul canale YouTube, di Arduino Scherato, di Airforex, e da lì parleremo anche di quello, quindi spero di vedervi, bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona serata, a prestissimo, ciao!